E allora ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io mi devo scusare per queste due settimane di assenza, un pochettino forzate, però purtroppo non ho avuto veramente modo, non vi ho lasciati proprio soli, vi ho fatto un paio di video verticali, spero li abbiate visti e che vi siano piaciuti, però ecco finalmente torno nel mio habitat naturale, allora come state? Come state? Spero che abbiate passato delle buone settimane. Allora ragazzi oggi ci sono tantissime, tantissime cose da dire, però prima di cominciare io vi devo ringraziare sempre per l'attesa, per i commenti che arrivano sempre, per i mi piace, per le visualizzazioni, per tutto l'amore che mi arriva, per le iscrizioni, siamo quasi a 1000 iscritti, manca poco così, poco, mancano 10-11 persone che si iscrivono e finalmente arriveremo a questa milestone, questa pietra miliare dei miliardi. Io non vedo l'ora, sono veramente contento, ho il cuore che mi si confia nel petto da quanto sono contento, quindi mi raccomando continuate a iscrivervi e possiamo procedere con il set di oggi. Oggi tante novità, tante belle cose, ma soprattutto abbiamo da parlare del Mundarasum, l'evento che c'è stato appunto due settimane fa, due, tre settimane fa, non lo so, sembra passata una vita ragazzi, è stata una giornata fantastica. Piano piano nel video vi parlerò di tutto quello che è successo e vi parlerò di tutte le persone fantastiche che ho incontrato, di quanto mi sono divertito e ringrazierò tutti a uno a uno, spero senza dimenticarmi di nessuno. Se mi dimentico di qualcuno non è perché è mister antipatico, ma perché mi sono dimenticato. Ragazzi periodaccio, periodaccio, quando sto sotto esame è un casino. Poi ho avuto mio padre che è stato malato, influenza, malatissimo, quindi in casa capite bene che non si può mettere a fare questi discorsi davanti alla telecamera, no? Quindi, vabbè, bando alle ciance. Il set del giorno, il set del giorno ragazzi è di un marchio a cui diciamo tengo particolarmente, ma perché ho conosciuto il produttore personalmente, è un ragazzo italiano che mi sta veramente tanto simpatico, che ho conosciuto al Mundarasum, oggi gran parte della roba che useremo proviene proprio dal Mundarasum. Funky Gallo Toiletris, questo è maestrale. Questa in realtà è un po' un'anteprima perché è la nuova profumazione, questa me l'ha portata direttamente Francesco a mano, mi ha detto tieni. Io, grazie mille Francesco, davvero, grazie mille. Io ho già provato i suoi prodotti perché tempo fa avevo partecipato al gruppo di acquisto fatto da Pasquale, di Italian Shaver, che saluto, ciao Pasquale, nel suo gruppo Telegram, ha fatto un set con sapone, dopo barba e profumo, con profumazione ispirata a Black Afgano, sapone che mi è piaciuto tantissimo, dopo barba, idem, purtroppo però la fragranza mi bruciava sul viso. E allora ho dato via il set, l'ho prestato, no l'ho prestato, l'ho proprio regalato perché tanto io non lo posso usare al mio amico Paolo Samurai, ciao Paolo, oggi saluteremo un sacco di gente. E poi Francesco allora ha deciso di portarmi questo e gliene sono veramente grato, oggi lo andremo a provare, questo non mi brucia in viso, quindi daje, daje Francesco, ce l'abbiamo fatta. Profumazione regala, spaziale, veramente, veramente particolare. Quando l'ho fatto sentire a mio fratello mi ha detto simuosa di mare ed effettivamente ci sta, ci sta il vento del maestrale. Guardate, tra l'altro questa copertina è veramente, veramente semplice ma bella, mi piace tanto. Ecco, qui abbiamo il cartoncino con la descrizione, con la grafica, qui c'era un campioncino. Ah ecco, prima di cominciare, prima di cominciare, qui c'era un campioncino di profumo. L'ho spedito, assieme ad altri piccoli cadeau, a un amico, Manuel Raffaele, che ha un canale YouTube nato da pochissimo. Ragazzi, Manuel è un ragazzo veramente d'oro, a cui tengo con tutto il cuore. E ha cominciato a fare video su YouTube proprio di rasatura per condividere la sua passione, la nostra passione. Quindi io vi invito ad iscrivervi al suo canale perché secondo me è veramente bravo, è più piccolo di me. Sono contento che sempre più ragazzi giovani cominciano ad unirsi a questo tipo di condivisione. Mi fa sempre veramente tanto piacere. Vi lascio il suo canale nella descrizione così vi andrete a vedere i suoi video e vi iscrivete. Così facciamo correre sto ragazzo, va bene? Allora, concept, ragazzi qui veramente soffia il vento, non ve lo leggo tutto, soffia il vento da nord che spettina la macchia mediterranea durante una temeraria passeggiata sul litorale. È ancora presto per dire primavera, ma la voglia di lasciarsi l'inverno alle spalle è forte. Tutta una cosa del genere, insomma. Senti, facciamo così. Ve la lascio così, mettete in pausa e ve la leggete, va bene? Perché non posso stare qui a leggere, se no poi il video dura 40 minuti. Oggi potrebbe durare tranquillamente 40 minuti. Quindi io alzo le mani in anticipo, alzo le mani in anticipo. Piramide olfattiva, testa, mandarino e mirto, cuore, alga e tuberosa, fondo, ambra assoluta e legno di cedro. Ma cosa ci sento? Io non sono un grande fan degli elenchi, ok? Vi voglio dire quello che... ecco, mi è cascato il tappo. Voglio dirvi quello che sento. Io sento... Mi piace veramente tanto, regà, mi piace veramente tanto. Cioè, questa sfumatura, in realtà, non è neanche troppo una sfumatura. È bella nota, agrumata, ok? Con quest'alga. Ha detto bene, mi fratello, regà, sa di mare, effettivamente. Cioè, ti dà l'impressione. Sarà per l'alga, sarà per il mirto. Però io lo trovo veramente, veramente buono. E è un po' particolare. Però non vi dico neanche che è una profumazione che o l'ami o la odi. Perché in realtà, tutti quanti, tutti quelli a cui l'ho fatta sentire, mi hanno detto, oh, buona. Quando io pensavo che invece magari avrebbero detto, strana, non lo so. Invece tutti mi hanno detto, oh, buona. E io sono d'accordo, ragazzi. Quindi... Allora, del set ne abbiamo parlato. Come rasoio, utilizziamo uno chavette da artista. Perché, ecco qua. Questo è il mio primo chavette con lame di tipo Artist Club. Ve lo faccio vedere, anzi, va già che ci sono. Questo ha la mollettina, ok? Si apre. Ecco qua. Questa dovrebbe essere una feather, se non sbaglio. Vabbè. Ringrazio Ivan, che sempre al Mundarasum... Ecco, mi si è incastrata la manetta. Che sempre al Mundarasum mi ha portato, o meglio, me l'ha fatto portare dal doc, da Marco. Ciao Marco, ciao Ivan. C'erano entrambi al Mundarasum. Siamo stati insieme, abbiamo chiacchierato. Marco già l'avevo conosciuto. Insomma, già ci siamo visti dal vivo più di una volta. Ivan era la prima volta che lo conoscevo. Finalmente ci siamo incontrati e sono stato veramente contento. Quindi, mi hanno voluto, appunto, prestare questo rasoio. Oggi lo proveremo per la prima volta insieme. Perché, regà, io non sono fan di provare per la prima volta le cose in video. Però, una volta ogni tanto ci sta. Poi c'avevo, appunto, la foca di provarle. Quindi, dai, è uno chavette. Lo proviamo. Dovrebbe essere anche più tranquillo rispetto a uno chavette normale. Mi faccio il segno della croce. Perché oggi sicuramente andrà a finire che mi sgarro. Perché quando dico queste cose mi sgarro sempre. Comunque, dai. Andremo a montare il nostro sapone con il mio fidatissimo Omega Roma. E ho già parlato veramente, veramente troppo, regà. Troppo. Ho parlato troppo. Eh, ve l'ho detto che oggi forse mi sarei perso in parole. Eh, è andata così, è andata così. Purtroppo, quindi. Io aspetto che eschi, che eschi, che eschi. Ho già parlato. Faccio un po' di silenzio. Se volete faccio un po' di silenzio, eh. Cioè, non c'è nessun tipo di problema. Allora. Ecco qua. Scaldo un pochettino il pennello. Nel frattempo ho messo anche un pochettino di acqua calda all'interno del mio sapone. Ma veramente, veramente un goccettino. E per poco tempo. Perché tanto non c'è bisogno. È una pasta abbastanza morbida. Ok, ve la faccio vedere. È una pasta abbastanza morbida. Se schiaccia, se premo con il dito praticamente si schiaccia. Quindi non c'è, non mi va neanche di schiacciarla troppo. Ecco qua. Sgrullo il pennello e comincio con il prelievo. Sapone che si fa prelevare decisamente bene. Quindi richiede veramente di pochi giri in ciotola. Per generare una bellissima, bellissima schiuma. Che adesso vi faccio vedere. Ecco qua. The sound of love. Vi ricordate in Spagna? Che la dicevo sempre, sta cosa. Facciamo l'amore con il sapone. Madonna che ricordo. Madonna, ragazzi, che ricordo. Cioè, vi rendete conto che è praticamente passato più di un anno da quando sono tornato dalla Spagna, ragazzi. E ogni tanto quando ci ripenso, bevi al magone, bevi al magone perché è stato un periodo magico, un periodo di, un'opportunità di crescita incredibile. E sarò per sempre grado a tutti coloro che mi hanno permesso di fare questa cosa. Dalla mia famiglia alla mia università. Mi levo gli orecchini. Il pennello è già bello ponfo, bello carico di sapone. Gli do una bagnatina perché tanto oggi mi sono pure scordato di riempire la ciotolina con l'acqua calda. Però vabbè. Facciamo anche questo. Ecco qua. Io comincio a montare. Si monta molto facilmente. Vedrete che in pochissimo tempo si genererà una bella, bella fiuma. Mondarasum, ragazzi. Quale periodo migliore? Se non quello, se non la settimana del Festival di Sanremo. Per parlarvi del Festival della Rasatura. Evento che è stato organizzato dal buon Daniele Maullu. che saluto e ringrazio. Tanto non lo guarderà mai questo video, giustamente, raga, ma ci sta, insomma. Io sembra che ho la forfara perché mi sono tutto schizzato addosso di schiuma. Comunque, ringrazio quindi, prima di tutto, il buon Daniele che ha organizzato la manifestazione che è andata veramente, ragazzi, benissimo. Cioè, io devo essere sincero, le aspettative che avevo per questo evento non erano altissime perché dicevo, ma, chissà se verrà qualcuno. Insomma, sì, sicuramente. Ma aspettavo che venisse un po' di gente, ma non così tanta, ragazzi. Non così tanta. Ma è venuta gente, è venuto un signore dall'Olanda, ragazzi. Michael. Ci siamo fatti una foto insieme e l'ha messa come immagine nel profilo, raga, che carino. Michael, mi ha scritto pure su Instagram. Si è fatto l'account Instagram apposta per seguirci tutti. Che grande, ragazzi. Veramente, veramente un tipo. Avreste dovuto vederlo. Fantastico. Quindi l'evento è andato veramente bene, veramente, veramente. Ho incontrato per la prima volta, e mi sono riuscito a fare una chiacchierata con diverse persone, tra cui Luca Di Naro. Alla fine io e lui non abitiamo così tanto lontani. Lui sta a Torre Maura, io sto a Ciampino, quindi addirittura veniva a farsi i capelli qui da me, ma il suo barbiere ha chiuso i battenti, quindi vabbè. Ho avuto l'occasione di parlarci e posso essere onesto, ragazzi. Io ho sempre avuto buoni pensieri su di lui e anche dal vivo me li ha confermati. Ma non solo Di Naro, non solo personaggi pubblici. Finalmente ho avuto anche l'occasione di conoscere degli amici dei gruppi Telegram, dei gruppi Facebook dal vivo, tra cui appunto Ivan, come vi ho già detto, che mi ha prestato il rasoio, come Stefano, che saluto, che è venuto addirittura dall'Emilia. Giusto, Stef? Dall'Emilia. Sì, 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 mi pare proprio di sì. Ugo Maria, ragazzi, anche io, grandissimo Ugo Maria, che è venuto da Roma, di Roma, ci sta. Ci siamo, abbiamo chiacchierato qualche giorno prima, gli ho fatto presente dell'evento, è venuto a dare un'occhiata, mi ha portato anche un campioncino di un sapone inglese, che ancora devo provare, Ugo, eh. Ti giuro che lo provo e ti faccio sapere. E soprattutto, ragazzi, come non salutare e ringraziare Barbagianni, che l'ho finalmente incontrato per la prima volta, grandissimo Barbagianni, una persona di un'eleganza proprio stratosferica. Da pomerese è vero, ragazzi, da pomerese è vero. Grande Barbagianni, un saluto. Ma un saluto, un bacio, un abbraccio pure ai miei soliti amici, a Francesco Lalla, stay shaved, ciao Francescone, anche a Paolo, Paolo Samurai, che anche lui l'ho incontrato per la prima volta, sto perdendo la memoria, vi dovrei dire tutti quelli che ho incontrato per la prima volta, ma le emozioni sono talmente tante che... Mi vengono in mente, mano a mano. Samurai grandissimo che mi ha portato, anche lui, tanti doni. Abbiamo fatto a cambio di un pochettino di cose. Lui mi ha gentilmente regalato... Guardate, guardate, ragazzi, guardate. Nel frattempo che parlo, io sto montando questo sapone, guardate da voi che schiuma sta facendo. Madonna. Donna, bello, 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 ci piace. Io ci metto un altro pochettino d'acqua perché tanto oggi andiamo di sciavetto, quindi abbondiamo, abbondiamo. Quindi, Paolone, grandissimo. Lo stregone della barba, ragazzi. Mattia, che mi ha adottato. Che mi ha adottato. Adesso mi chiama figliolo, che cosa carina. Il barbiere, Ivan Bognani, ragazzi, simpaticissimo. E poi, una mano pazzesca. Appena sono arrivato, praticamente sono arrivato lì intorno alle dieci e mezza, undici del mattino. Entro, vedo Barbagiani. Si può, vieni qua, a me devi fare il video. Sono stato un'ora così a riprenderlo. Mentre il maestro Ivan gli faceva la barba, ma, ragazzi, è stato veramente una goduria, anche solo da vedere. Io immagino che esperienza è stata per il nostro Barbagiani. Veramente, veramente. Sono stato contentissimo di conoscere anche questi mastri barbieri, compreso Paolo Barrasso, ragazzi. Paolo Barrasso con una sagoma incredibile. Io sto parlando proprio a Raffi, eh, raga. Ma oggi sono veramente, veramente contento, perché avevo tutte queste parole in canna. Sono due settimane che dovevo dire tutte queste cose e non riesco a starmi zitto. Vabbè, partiamo. La lametta, ve l'ho detto, dovrebbe essere una Feder Pro, ma non me lo ricordo, onestamente. Comunque ho comprato, ho comperato, ho acquistato qualche lamettina Artist Club. Quindi sto finalmente provando questo nuovo sistema. Vediamo un po' come va. Vediamo un po'. Diciamo che, conoscendo lo Chavette normale, insomma, utilizzando quello normalmente, questi, forse, da quello che mi hanno detto, dovrebbero essere un pochettino più semplici, un pochettino più permissivi. Però lo vedremo, lo scopriremo tra pochissimo. Vai! La barba era di una settimana, eh. Avete visto? Allora. Porca miseria. Fantastico. Fantastico. Ha falciato via la settimana di barba senza veramente colpo ferire. Wow, ragazzi. Wow. Prime impressioni fantastiche. Fantastiche, veramente. Allora. Sto facendo un po' di silenzio perché vi ho già rimabito abbastanza, penso, eh. Però, adesso continuiamo. Allora, da quello che mi hanno detto diversi amici, questo tipo di Chavette con queste lame vanno utilizzate con un angolo un pochettino più chiuso perché altrimenti rischiano di strappare un pochettino. per natura proprio queste lame sono più spesse, ok? Infatti hanno possono essere riutilizzate ben più di una, due, tre volte. Infatti sono lame anche abbastanza cari quindi non farei usa e getta come con delle lamette normali. Ma, ragazzi, veramente non so se è il sapone che è super scorrevole c'ho una pelle di velluto in questo momento qua sotto o queste lame che veramente falciano come se non ci fosse un domani ma mi sto trovando da Dio, ragazzi. Veramente, veramente da Dio. Scusate c'ho un po' di mal di cola ma capite bene che con tutte queste influenze che sono girate per casa non è che sono perfettamente in salute anch'io. Cioè che vi devo dire, ragazzi? Penso che lo stiate vedendo da soli quanto mi sta soddisfacendo questa questa lama. Allora cambio mano un'altra volta mi piace mi piace cambiare mano poi per il controvero di solito ne uso una sola. Allora c'è chi dice che questo tipo di sciavette con queste lame ricordano il un mano libera ben affilato. Allora io un mano libera l'ho provato in privato perché ancora non è il momento di portarvi un video. sempre grazie al mitico doc che me ne ha fornito uno ben affilato da lui ho avuto qualche piacere. ma forse è un po' presto per farvi un confronto e dirvi se effettivamente questo tipo di di questo sistema di lame assomiglia al mano libera prime impressioni potrei dirvi che magari alla lontana un pochettino sì ma non è la stessa cosa però ecco prendete questa mia opinione con riserva effettivamente se il rasoio è tenuto troppo perpendicolare al viso la lama tende a strappare molto di più rispetto a una lama classica diciamo infatti devo fare questa cosa bruttissima e mostrarvi il naso da porco perché altrimenti con questa testina che è un pochettino alta non riesco ad andare bene sotto al naso ok quindi ecco così sì ottimo allora prima passata praticamente sono già liscio io potrei fermarmi qui ma anche in contropelo non è che ce l'ho sentito sì c'è qualcosa ma non tantissimo sono veramente veramente soddisfatto ne ho parlato qualche tempo fa proprio pochi giorni fa con Benedetto ecco ecco un altro ragazzo che mi stavo dimenticando Benedetto che su Instagram è ben passion for chavette che saluto e che ho incontrato anche lui al mundarasum qualche giorno fa stavamo chattando proprio stavamo parlando proprio di questo tipo di rasoi perché lui aveva appena fatto un video con uno chavette artist club mi ricordo se fosse una copia del del pedero o del o del cai comunque sono tutti molto simili ma sono molto molto belli e mi diceva proprio Simo se ti piace lo chavette questo lo adorerai è semplicissimo è veramente veramente bello diciamo che è un tipo di chavette sì che probabilmente raccomanderei a chi vuole iniziare e se vuole stare proprio sicuro al 100% ci mettere nella metà con guardia così lì proprio stai stai sicuro che non ti succede niente quelle sono talmente protette quelle lame che anche se passo il dito sopra il filo non ti non ti tagli è veramente una cosa una cosa particolare sto cercando di ricordare ragazzi se mi sono dimenticato qualcuno che ho incontrato al al mundarasum ma è certo raga ma di che stiamo parlando ho avuto finalmente modo di conoscere dal vivo anche il buon peter cercalis di oriana ed evans che saluto che probabilmente sempre non guarderà questo video ma sono stato contento di riconoscerlo anche lui mi ha portato dei cadeaux mi ha dato dei cadeaux sono molto molto contento lui talia no veramente ragazzi delle brave persone sono venuti a cena con noi abbiamo fatto una cena la sera fantastica ci siamo divertiti un sacco anche c'era un altro ragazzo un altro barbiere ok non vorrei sbagliare mi pare che si chiama Michele su instagram è barbieri a mano libera si chiama scusami caro non mi ricordo il tuo nome perché non abbiamo neanche parlato molto comunque se vedi questo video un saluto anche a te sono tornato a casa ragazzi da quella sera con il cuore pieno sono stato veramente contento è stata una bella giornata lo so che ve lo sto ripetendo mille mille volte ma veramente è stato proprio proprio bello è sempre un piacere rincontrare i soliti amici con cui ci vediamo dal vivo Francesco lui e lui siamo un po' il gatto e la volpe ci prendiamo sempre in giro ma si scherza chiaramente si scherza sempre il barbagianni no il barbagianni non l'ho mai incontrato il doc il carissimo doc spero di non essermi dimenticato nessuno ragazzi spero di non essermi dimenticato nessuno se vi siete se ho dimenticato qualcuno commentatemi se mi sono dimenticato di te commenta questo video con a pezzo di no 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 che poi youtube li filtra sti commenti quindi neanche li vedo e se li vedo devo revisionarli dalla dalla bacheca perché youtube fa un filtro automatico riconosce insulti cose del genere quindi ogni tanto entro lì e vedo se c'è qualcosa che è entrato lì per sbaglio o che devo proprio eliminare vabbè contro pelo ragazzi guardate questo sapone che bello che ha fatto sta bella crema bravo francesco bravo veramente francesco fa anche gallo eh no francesco stay shaved sono due persone diverse avete cominciato a collo eh che figata raga che figata sto rasoio Ivan questo non te lo do più mi dispiace no scherzo lo riavrai che poi oltre a questo Ivan mi ha anche gentilmente donato un pezzo di storia un pezzo letteralmente perché mi ha portato un vasettino di vitos al tallo ragazzi quella non la producono più eh quella è veramente un pezzo di storia poi la proverò caro Ivan e ti farò sapere già dal profumo di mandorla io godo che a me le cose alla mandorla piacciono tanto c'è chi non le ama io invece stravedo per la mandorla mi piace veramente veramente tanto come profumazione e anche come sapore voi vi metto una bella torta una bella mandorlata mamma mia mia madre rega fa una mandorlata spaziale perché vi sto parlando delle torte di mia madre va bene va bene siamo qua come sapete il contropello preferisco farlo con una sola mano perché essendo mancino ho maggior controllo oddio in realtà non dipende dal fatto che sono mancino ma dal fatto che appunto la mano dominante è quella che ha maggior forza maggior controllo quindi se ci sono delle asperità riesco a gestirle meglio con la mano dominante piuttosto che con quella non dominante oggi ragazzi mi sto sto godendo sto godendo veramente però comunque profumazione del sapone che resta molto presente poi devo essere onesto io non conosco la profumazione del mirto in sé ok quindi non vi so dire se quello che sento sia effettivamente il mirto però quando Francesco quando abbiamo fatto sentire il sapone a Ivan che abita a Roma ma è un sardo di provenienza quando hanno usato il sapone ha detto ah è mirto ahio quindi io mi fiderei del sardo sto in ansia ragazzi spero veramente di essermi ricordati tutti di non essermi scordati da qualcuno ecco qua questo rito ragazzi che sta in sessione di esami che è particolarmente una sessione particolarmente intensa non mi sto neanche radendo avete visto che barba che c'avevo cioè ultimamente riesco a farmi solo barbe di una settimana di una settimana non riesco a mettermi vai in biblioteca la mattina torna alle 7 vai in palestra e tra una cosa questo piccolo svago è rimasto un pochettino indietro allora io non sono perfettamente liscio come una palla da biliardo potrei esserlo ma onestamente non mi va di insistere mi fermo qua anche se la pelle è assolutamente ritassata non vado avanti perché sono pigro quindi mi sciacco il viso e torno da voi ed eccoci qua allora guardate un po' che vi faccio vedere raga guardate un po' da 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 l'asciugamano questa è una chicca questa è una chicca allora niente ragazzi 7 del giorno che è stato veramente una goduria e un piacere da usare io mi sono dimenticato che non vi ho fatto vedere l'inci del sapone ve lo metto qua cerco di rotearlo un po' così almeno riuscite a vederlo bene questo è un sapone vegetale con tre oli e tre burri ma che vi ho fatto vedere ho fatto vedere l'inci giusto sì sì questi invece sono gli oli e i burri che ci sono dentro questo diciamo è per una maggior comprensione dell'inci poi ci sono anche altri componenti dentro ma come avete visto il sapone si comporta veramente veramente bene in viso forse durante la prima passata se ho un pochettino seccato intorno alla bocca ma quella è anche colpa mia insomma anche colpa mia io vi assicuro che il sapone funziona veramente veramente molto bene ho una pelle super elastica complimenti veramente francesco per sto prodotto che funziona funziona veramente alla grande anche sentire che non è non mi fa quell'effetto un po' sì un pochettino ma non troppo e comunque tanto per come after abbiamo un balsamo non abbiamo uno splash quindi se il sapone ha delle mancanze ma personalmente su di me non ne ha c'ho la pelle ragazzi di un liscio di un rilassato di un protetto fantastica fantastica ecco mi è cascato pure il tappino oggi mi cade tutto ci versiamo un pochettino di balsamo in mano manco troppo ecco manco troppo invece mi è cascato un botto madonna Simone sei un casino sei un casino questo è un balsamo alcolico ragazzi addirittura pensate non so se è grazie all'alcol o qualche altro componente interno ma si asciuga veramente molto velocemente questo forse è un balsamo che utilizzerei anche in estate perché è molto leggero ma è molto molto lemitivo molto bello zero bruciore in vita assolutamente zero bruciore in viso fantastico Francesco non mi brucia non mi brucia la fragranza godo come dico in questi casi godo ragazzi che vi devo dire sarà una bellissima sbervata alla fine io non so quanto è durato questo video è durato veramente tanto 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 e io me ne scuso ma dovevo dovevo parlare era da tanto che non che non ci vedevamo erano almeno due settimane che non ci vedevamo a parte vabbè i video shorts ma quelli sono diciamo un altro tipo di linguaggio di comunicazione lì si parla con gli occhi con lo sguardo non si parla con le parole si parla con altro allora assolutamente sentite come proprio appiccicore del balsamo zero fan che altro vedevo dire ragazzi sono soddisfatto putta è così andata allora io vi ringrazio per avermi seguito vi invito nuovamente a iscrivervi al canale ringrazio tutte le persone che ho incontrato al mondo rasum è stato un evento fantastico spero di rincontrarvi anche alla prossima edizione perché so che Daniele sta organizzando la prossima edizione Francesco Paolo Stefano Ivan Doc Ivan Bognanni Barbagianni troppa gente troppa gente grazie a tutti ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao